Segnale News Si sta cercando di capire soprattutto come i rapinatori sono riusciti a praticare un foro nella parte retrostante, l'istituto di credito senza che nessuno se ne accorgesse. Si cerca di capire anche come mai il cavo contenesse tanti soldi e perché non fossero stati portati via. Insomma tanti punti da chiarire. Bisogna ricordare che la rapina tra le altre cose è avvenuta a poca centinaia di metri di distanza dal tentato colpo portato a termine da altri due rapinatori pochi giorni prima ai danni di un esercizio commerciale poco distante. Anche lì i rapinatori hanno agito a bordo di una motocicletta abbandonata poi prima di prendere un'auto ad un'automobilista di passaggio sotto la minaccia della pistola. Ecco però da questo punto di vista sembra che nonostante questa analogia i due fatti non siano assolutamente collegati tra di loro. Sempre per quanto riguarda la cronaca una mirata attività di polizia è stata predisposta dalla questura di Frosinone per accertare la regolarità di sale, videolotteri, giochi e scommesse. Il personale specializzato della divisione amministrativa e sociale ha effettuato controlli in tre esercizi commerciali del settore, due nel capoluogo e uno in territorio di Veroli, nel mirino degli operatori, della polizia di Stato, la verifica delle licenze e delle relative tabelle esposte, l'utilizzo degli apparecchi elettronici di intrattenimento da parte dei minori, nonché del regolare possesso dei prescritti titoli autorizzativi. Nel corso del servizio i poliziotti hanno inoltre identificato 21 avventori. Tra i clienti di una sala giochi c'erano anche due cittadini albanesi di 27 e 24 anni, risultati irregolari sul territorio nazionale. Voltiamo pagina, occupiamoci sempre di cronaca. Sotto ogni punto di vista, Frosinone latina al top su scala nazionale come indice di criminalità nell'agroalimentare. Il preoccupante primato emerge dal quarto rapporto elaborato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità in agricoltura. Ebbene, Frosinone si colloca al quindicesimo posto assoluto con un indice del 49,3% e latina al ventiseiesimo con un indice del 43,3%, occupando in ambito laziale il primo e il secondo posto. In betta la classifica nazionale figura Ragusa, seguì dal secondo al terzo posto da Reggio Calabria e Napoli. L'indice per completare il quadro relativo alla regione Lazio scende sulle piazze di Viterbo al 29,1%, su Roma al 26,7% e Rieti al 19,6%. Concludiamo con una notizia curiosa legata al mondo della musica, anche Lady Gaga è ciocciara, l'ennesima scoperta, l'ultima dopo clamorose altre scoperte, lega le origini della pop star alla provincia di Frosinone. Perché come scoperto dal quotidiano online Sora24.it i suoi bisnonni da parte di madre erano emigrati all'inizio del secolo scorso negli Stati Uniti da Brocco Stella, paesino e provincia di Frosinone. L'albodoro dei personaggi eccellenti di tutte le epoche che possono vantare sangue e ciociaro nelle vene si ampia dunque. Ulteriormente era questa l'ultima notizia, per il momento noi ci risentiamo più tardi.